Sono stato indeciso fino all'ultimo se e quando fare uscire questo video, ma direi che è arrivato il momento. Il motivo in realtà di questa attesa è molto semplice, perché non è mai uscito un comunicato su Frattesi e allora ho voluto far scemare un po' la cosa, aspettare qualche giorno, ma è arrivato il momento. È il video più strano che vedrete su questo canale YouTube e tra poco scoprirete perché. Ciao a tutti amici Nerazzurri, è il lunedì dopo Roma-Inter e come ben sapete Francesco Cerbi è uscito per infortunio, dunque questa mattina dovrebbero avvenire gli accertamenti per capire l'entità del problema. Ci dirigiamo verso il luogo che ormai conoscete bene su questo canale YouTube e cerchiamo di capire meglio insieme se c'è il giocatore, cosa ha il giocatore, eccetera, eccetera. Ferma, ferma, vi ricordo www.ufocalcio.com per malietta di calcio a un prezzo bassissimo con il codice sconto intra avrete uno sconto del 10%, fino al 16 febbraio ci sarà un'offerta imperdibile le spedizioni però partiranno dal 17%, andate a darci un occhio, trovate tutto in descrizione e guardate un po' cosa è successo mentre attendevo a Cerbi. Tutto bene? Cavolo, grande. Ma accertamenti? Eh? Accertamenti, tutto bene? Tutto ok? Ti aspettiamo in campo, eh? Ciao, buon giornata. Grazie, anche a te. No, fermi un attimo, ma che mattinata è stata? Cioè noi siamo usciti per a Cerbi, stiamo tornando indietro, dopo aver parlato con Frattesi. Io adesso non so, in fase di editing, come e se e quando farò uscire questo video perché non lo so, nel senso, se dovesse uscire un comunicato della società, penserò in un modo, se non dovesse uscire ne penserò in un altro, se state vedendo questo video perché comunque qualcosa sarà successo, raga, siamo finiti proprio a parlare, la prima volta che si è fermato, non lo so, non so neanche come dire, letteralmente inaspettato. Penso sia il video più strano che sia uscito su questo canale, se sarà uscito, non lo so, in questo momento. Vabbè, è incredibile, assurdo, assurdo davvero. Wow, wow, wow. Io nel dubbio l'altro la faccio comunque e questo era il nostro video più strano del canale sicuramente, degli accertamenti a questo punto di Davide Frattesi. Se vi è piaciuto mettete like, commentate, condividete, iscrivetevi al nostro canale YouTube, attivate la campanellina per sicurare tutti i nostri video, tutte le nostre live, passate da tutti i nostri social che trovate in descrizione, anche www.ufocalcio.com per maglietti di calcio, un prezzo bassissimo, con il codice sconto Inter avrete uno sconto del 10%, fino al 16 febbraio c'è un'offerta imperdibile, la trovate in descrizione, le spedizioni però partiranno dal 17 e noi ci vediamo al prossimo video o a una prossima live. Forza Inter!